Siamo a completa disposizione della magistratura nella quale riponiamo piena fiducia nel convincimento di aver sempre agito nel totale rispetto delle norme e nell'interesse primario della salute di ospiti e lavoratori. Così oggi il presidente e il direttore della RSA di Comeana, Dimitri, Fruendi e Paola Lombardi, in una lettera inviata dall'avvocato Maurizio Briganti in seguito all'inchiesta aperta dalla procura di Prato sul contagio da coronavirus che si è sviluppato nella struttura ai primi di marzo. Ad oggi si contano sei decessi e una trentina di contagiati tra anziani e infermieri, mentre sono tre, come ha fatto sapere la stessa RSA, gli ospiti guariti. Al momento il procuratore Giuseppe Nicolosi e il sostituto Lorenzo Gestri, che hanno delegato i carabinieri per l'acquisizione di atti, documenti e cartelle presso la RSA, non hanno formulato ipotesi di reato. L'obiettivo è far luce sulla gestione degli anziani, sulla diffusione del contagio, sulle responsabilità dell'assistenza agli ospiti positivi al virus e i rapporti intercorsi tra RSA e ASL, dal giorno in cui sono emersi i primi casi di positività, intorno al 10 marzo, fino al 7 aprile, quando l'azienda sanitaria è subentrata nella gestione diretta degli anziani contagiati. Tramite il loro avvocato, i vertici della RSA chiariscono che la struttura non è stata commissariata, ma solo che la ASL si è fatta direttamente carico degli ospiti affetti dal virus, così come previsto dall'ordinanza del presidente della regione toscana, Enrico Rossi. Nella RSA di Comeana si è fatto ricorso alla cosiddetta compartimentalizzazione, ovvero alla divisione degli spazi. Un'area Covid è stata allestita al secondo piano ed è gestita dalla ASL, mentre al primo piano sono ospitati gli anziani negativi, dei quali continua ad occuparsi l'associazione Casa Accoglienza Anziani Comeana, un'organizzazione che è stata possibile perché la regione contempla due diverse soluzioni a seconda della conformazione degli immobili. La separazione degli ospiti positivi da quelli negativi all'interno della struttura stessa, oppure, quando questo non è possibile, il trasferimento degli anziani positivi in ospedale o in reparti di cure intermedie.